Ciao a tutti biscottoni del zio vostro e bentornati sul mio canale didattico Tiago ti spiego nella sezione della matematica. In questo video vedremo come si calcola la distanza tra rette parallele. Per affrontare questa lezione però dovrai sapere quando è che due rette sono parallele e soprattutto dovrai conoscere la distanza punto retta. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente, attiva la campanella, lascia un like, fai qualcosa oppure seguimi su Instagram. Vediamo se capisce qualcosa va? Cominciamo con questo video sul piano cartesiano in cui affronteremo un argomento molto semplice che ci prenderà poco tempo, che è la distanza tra rette parallele. Abbiamo visto nei video precedenti come facciamo a calcolare la distanza punto retta e questo lo possiamo vedere come un caso particolare. Vediamo perché. Supponiamo di avere a che fare con queste due rette che chiaramente sono parallele tra di loro. Come faccio a capire che sono parallele? Dall'analisi dei coefficienti angolari. Ho due modi, vi ricordo, per andare a calcolare il coefficiente angolare di una retta. Il primo è, se questa retta è scritta in forma implicita, come in questo caso, mi basta fare il numero davanti alla x cambiato di segno fratto il numero davanti alla y e quindi vedete che ho ottenuto meno 4. Il secondo metodo è quello di scrivere l'equazione in forma esplicita, quindi nel nostro caso meno 4x meno 18. E a questo punto il coefficiente angolare è proprio il numero che sta davanti alla x, quindi se compaiono delle frazioni è quello il coefficiente angolare. Quindi, siccome i coefficienti angolari sono identici, sono sicuro che quelle due rette sono parallele. Volendo, possiamo andare a fare anche un disegno di quelle due rette. Questa cosa non è assolutamente obbligatoria, la facciamo velocissimamente perché magari riusciamo a capire meglio qual è il ragionamento per calcolare la distanza. Quindi mi prendo una bella tabellina di valori per la prima retta e per la seconda retta e vado a segnare dei valori a caso. Per quanto riguarda la x mi prendo per esempio 0 e meno 1, quando la x fa 0 la y viene meno 1, quando la x è meno 1 la y fa 3. Per quanto riguarda la seconda retta non mi conviene andare a prendere 0, ragazzi, perché se prendo 0 devo disegnare meno 18. Allora, vedete, mi vado a prendere meno 4, così ottengo 16 meno 18 che fa meno 2 e poi mi vado a prendere anche meno 5, così ottengo 20 meno 18 che fa 2 e vado a piazzare questi punti sul piano cartesiano. Ecco qui, ragazzi, vado a mettere i punti, li unisco e ottengo le mie due rette. La prima è quella in arancione, la seconda è quella in viola. Come posso fare a calcolare la distanza fra quelle due rette? È davvero molto molto semplice. Siete d'accordo che la distanza sarà sempre la stessa? Cioè, se io prendo questo punto la distanza sarà tot, ma se prendo quest'altro punto la distanza sarà sempre sempre la stessa. Tra l'altro è anche una delle definizioni di rette parallele, cioè sono due rette che non si incontrano mai, che vuol dire che hanno sempre la stessa distanza tra di loro. E quindi posso utilizzare questa definizione per andare a calcolare la distanza, perché mi basta prendere un punto qualsiasi da una delle due rette e andare a calcolare la distanza punto-retta. Quale punto potrei prendere? Beh, è veramente identico. Siccome io là ho disegnato delle rette e ho preso già dei valori, perché non andare a utilizzare un punto che ho già trovato? E in genere i punti sono molto comodi quando nelle coordinate c'è almeno uno zero. Quindi, perché non prendere il punto zero meno uno? Quindi cosa faccio? Prendo questo punto qua, che è zero meno uno, e ne vado a calcolare la distanza dalla retta due, che è la nostra retta in viola. E per fare questo mi basta utilizzare la formula della distanza punto-retta che ho visto in uno dei miei video precedenti, dove vi ricordo che cosa? Che il numeratore non è nient'altro che la retta da cui voglio fare la distanza scritta in forma implicita, dove al posto di xdp e ydp ho messo le coordinate del mio punto. Quindi se io sto calcolando la distanza da questa retta, il numeratore non sarà nient'altro che quella retta dove al posto di x e y ci vado a mettere zero meno uno. Cosa ottengo quindi? Quindi modulo di 4 per 0 più y per meno uno, quindi meno uno, più 18, fratto che cosa? Al denominatore che cosa devo mettere? La radice della somma dei quadrati di che? Dei coefficienti della nostra retta. Quindi 4 al quadrato e 1 al quadrato. Quindi quella quantità viene 16 più 1. Al numeratore che cosa ottengo? 4 per 0 fa 0, quindi ottengo modulo di 17 che fa 17 fratto radice di 17. Mi basta andare a razionalizzare moltiplicando per radice di 17 su radice di 17 e la nostra distanza è calcolata e farà proprio radice di 17. Per quale motivo? Questi sotto diventano 17 moltiplicati tra di loro, questo 17 si semplifica con questo 17. Ecco fatto ragazzi, molto molto facile. Vi assicuro che se prendete un altro punto qualsiasi di una delle due rette e andate a fare la distanza ottenete esattamente lo stesso valore. Volete provare? Allora, stavolta prendiamo il punto 2 meno 5, che è il punto della retta 2, viola, e andiamo a calcolare la distanza dalla retta 1. Quindi che cosa dovremmo fare stavolta? Dovremmo ricopiare la retta 1, dove al posto di x e y ci andiamo a mettere meno 5 e 2. Quindi farò 4 per meno 5 più 2 più 1, fratto la radice di che cosa? Sempre di 16 più 1. Cosa ottengo al numeratore? Ottengo meno 20 più 3, ovvero modulo di meno 17, fratto la radice di 17. Essendo modulo però vuol dire prendi il valore positivo, quindi 17 fratto la radice di 17, che per lo stesso motivo di prima, razionalizzando, diventa la radice di 17. Davvero facilissimo ragazzi! Non c'è bisogno neanche di andare a fare la tabellina con i valori, vi basta prendere un punto qualsiasi. Non c'è bisogno neanche di andare a prendere un punto che necessariamente fa parte della tabellina che avete utilizzato per andare a fare il disegno. Ma non c'è bisogno neanche di fare il disegno, vi basta concentrarvi su una delle due rette. Andate a scegliere un valore della x e trovate la corrispondente y, in questo modo avete un punto qualsiasi. Dopodiché fate la distanza di quel punto dall'altra retta. Ecco fatto, veramente semplicissimo. E la vostra distanza è calcolata. Con questo mini video abbiamo concluso, spero di essere stato molto chiaro. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima!